Buongiorno, sono Marcello Gliervolino, un socio volontario di Cuore e Territorio. Siamo qui per donare letti e materassi all'associazione People from Ucraina. E qui con il referente Dimitro, tutti i letti e i materassi andranno alle famiglie ucraine bisognose. Esprimo tutta la mia soddisfazione, quella del presidente Morgese di Cuore e Territorio, per la donazione e la riuscita. Grazie a tutti, buona giornata. Vorrei ringraziare l'associazione Cuore e Territorio dell'aiuto che è fornito al popolo ucraino, di questi materassi, dei letti che andranno alle persone bisognose in Ucraina. Grazie mille. Grazie a lei. Buongiorno a tutti.